Voleva la palla dalla parte opposta di Moriero che è smarcato Sartor prova a raggiungerlo, si coordina Moriero ed è un gol strepitoso Moriero ancora lui alla Mala di R come ai tempi della Roma l'Inter in vantaggio ed è un euro goal davvero La soddisfazione di Simoni, venticinquesimo minuto del primo tempo L'Inter passa in...